Siamo qui a Tufillo, in Abruzzo, in un piccolo paese. Questa è una tradizione antichissima, loro la chiamano la panca. Praticamente sono tronchi, pezzi di legno che vengono inseriti. E poi entro la mezzanotte verrà spinta in su per il paese, verrà portata davanti la chiesa e verrà accesa. Questi giovanotti ci passeranno la notte con salsiccia arrosto e vino cotto sicuramente. Peccato non ci sia la neve, era molto più suggestiva. E' una tradizione antichissima che c'è qui. Adesso è molto più piccola rispetto al passato. Però comunque questi giovani portano avanti la tradizione. C'è anche l'ispettore dei lavori che controlla, il mio amichetto. Mio padre, altre persone, insomma, altri amici. Sì. Va bene. Ecco. Si divertono, infilano i tronchi dentro gli anelli di ferro. Insomma, passano il tempo a provare in un modo, quello in un altro. Martelli e quant'altro. E' un'azondromo. E' un'azondromo. E' un'azondromo. E' un'azondromo. Grazie a tutti.